ciao a tutti benvenuti o bentornati su GoFishing in questo video un approfondimento o un punto di vista alternativo riguardo i concetti di rapporto di recupero e velocità dei mulinelli una volta scelto marca taglia e modello di un mulinello il rapporto di recupero è il parametro che influenza la scelta finale spesso per abitudine o consuetudine si associa il rapporto di recupero alla velocità del mulinello quindi alto rapporto di recupero uguale mulinello veloce basso rapporto di recupero uguale mulinello lento l'idea di base concettualmente è giusta ma è sempre vero per questo approfondimento serve qualche ragionamento di tipo matematico ma sarà veramente molto semplice e se avete la pazienza di seguire il video arriveremo a delle conclusioni interessanti farò anche una prova pratica a supporto del video utilizzando un contametri che è uno strumentino in grado di contare i metri avvolti sulla bobina del mulinello e un abu revo rocket uno dei mulinelli con più alto rapporto di recupero attualmente disponibili sul mercato con queste caratteristiche rapporto di recupero 10.1 a 1 e centimetri di filo recuperato per giro di manovella 111 centimetri per partire tutti con lo stesso livello di informazioni descrivo brevemente per dare la possibilità di seguire anche chi non è esperto cosa si intende per il rapporto di recupero il rapporto di recupero di un mulinello è un rapporto tra il numero di giri completi della bobina in caso di un mulinello da casting o il rotore in caso di un mulinello da spinning ogni giro di manovella quindi ogni giro di manovella corrisponde a un tot giri di bobina che è variabile in base a marca e modello di mulinello quindi è un rapporto che viene espresso con due numeri 5 a 1 6 a 1 7 a 1 fino a 10 a 1 anche per i mulinelli da casting dove il primo numero rappresenta il numero di giri della bobina e il secondo è il giro di manovella la quantità di filo recuperato per giro di manovella un'informazione importante che completa il rapporto di recupero facciamo un passettino ulteriore descrivendo molto semplicemente il concetto di velocità come qualcosa che succede in un determinato tempo ad esempio chilometri orari è una velocità metri al secondo anche giri al minuto quindi ci deve essere un qualcosa che lega un numero secco che il rapporto di recupero alla velocità di recupero del mulinello questo qualcosa è la quantità di filo lunghezza di filo recuperata per giro di manovella solitamente è un dato riportato nelle tabelle dei dati tecnici ma molto raramente viene considerato ma è un dato che mi dice molto di più rispetto ad un rapporto di recupero secco e poiché si tratta di una lunghezza metri ad esempio rapportata ad un tempo mi indica una velocità è una lunghezza che dovrebbe essere riportata sempre nei dati tecnici ma qualora non lo fosse o non ho più la scatola e voglio tirare fuori la quantità di filo recuperata per quel determinato rapporto di recupero la regola mnemonica almeno per i mulinelli di taglia medio piccola che utilizzo io per il bus fishing è la seguente un rapporto di recupero 5 a 1 recupera 50 centimetri ogni giro di manovella un 8 a 1 recupera 80 centimetri per giro di manovella il 10 a 1 recupera 100 centimetri un metro ogni giro di manovella e così via questa regola mnemonica non è valida per i mulinelli da spinning perché a parità di rapporto di recupero rispetto ad un mulinello da casting normalmente recuperano una maggiore quantità di filo la lunghezza di filo recuperata nello specifico è la quantità di filo che viene avvolta attorno alla bobina ogni giro di manovella se messo in relazione ad un tempo ci dà un'indicazione della velocità centimetri di filo recuperati metri di filo recuperati in tot tempo questo tot tempo considerando un recupero medio né troppo veloce né troppo lento lo consideriamo di un secondo 1 2 3 4 quindi col tempo medio di giro di manovella un secondo escludendo la conclusione banale che un mulinello è tanto più veloce quanto più veloce giro la manovella questo è ovvio ma non è la conclusione a cui voglio arrivare io se manteniamo sempre uguale per esempio un secondo il tempo di giro della manovella possiamo fare dei confronti fra i rapporti di recupero quindi un 5 a 1 mi recupera 50 centimetri di filo al secondo un 8 a 1 me ne recupererà 80 al secondo un 10 a 1 ne recupererà 100 al secondo si inizia a vedere il legame tra rapporto di recupero e velocità di avvolgimento del mulinello e una prima curiosità può essere la seguente arrivando ad un'unità di misura più familiare chilometri orari partendo dai metri al secondo ad esempio 50 centimetri al secondo sono 1,8 chilometri orari 60 centimetri al secondo sono circa 2 chilometri orari e 100 centimetri al secondo sono circa 3,6 chilometri orari quindi sono velocità relativamente lente e rimangono tali anche se giro più veloce quindi arriverò a 9 10 chilometri orari come velocità massima e sono velocità tranquillamente alla portata di tutti i predatori sia l'acqua dolce che acqua salata non bisogna temere un mulinello con il rapporto di recupero alto perché anche recuperando velocemente saremo nel range di attacco dei pesci predatori per fare un esempio pratico se recupero un crankbait con un mulinello che ha un recupero di 10 a 1 facendo un giro di manovella al secondo sto tranquillamente nel range di velocità di attacco di un pesce predatore come bass o luccio anche altri predatori di mare ci sono poi altre considerazioni da fare che sconsigliano un utilizzo di un rapporto di recupero alto ovvero il tempo di permanenza nelle strike zone ovvero dove il pesce più propenso all'attacco e la sensazione di fatica di durezza durante il recupero che alla lunga può diventare noiosa riassumiamo brevemente i tre concetti visti fino adesso quindi rapporto di recupero numero secco al quale corrisponde una determinata quantità di filo una lunghezza di filo recuperata che può essere rapportata ad un tempo ad esempio un secondo per girare la manovella per avere un'idea della velocità e tornando alla domanda iniziale è sempre vero che un mulinello con un rapporto di recupero più elevato ad esempio un 10 a 1 è sempre più veloce di un mulinello con un rapporto di recupero più basso a parità di tempo un secondo per il giro di manovella iniziamo a dare una risposta precisa a questa domanda vedendo come funziona l'imbobinamento di una bobina di mulinello da casting farò tre prove una con la bobina vuota una con la bobina piena a metà e una con la bobina piena totalmente facendo dieci giri di manovella e contando quanti metri vengono recuperati per ogni prova primo test con la bobina vuota a zero il contametri ho marcato con un pezzo di scotch la manovella per facilitare il conteggio dei giri e vediamo quanto filo recupera in dieci giri di manovella ha recuperato un totale di sei metri quindi circa 60 centimetri per giro di manovella ed è un dato inferiore a quello dichiarato seconda prova con la bobina piena a metà vediamo quanto recupera dopo i dieci giri un totale di otto metri quindi 80 centimetri per giro di manovella ancora inferiore al dato che abbiamo visto prima ultima prova con la bobina piena vediamo quanto recupera ha recuperato circa 11 metri quindi perfettamente in linea con il dato di 111 centimetri per giro dichiarato dopo aver visto la parte pratica sull'imbobinamento arriviamo alle conclusioni per un determinato rapporto di recupero in questo caso abbiamo visto il 10 a 1 la quantità di filo recuperata è minima quando la bobina è vuota e aumenta progressivamente fino ad arrivare alla quantità di filo recuperata massima quando la bobina è piena quindi quando l'imbobinamento è al diametro esterno della bobina questo vuol dire che il dato espresso come dato tecnico è riferito alla quantità di filo recuperato a bobina piena se considero il tempo di un secondo per giro di manovella la velocità massima di recupero del mulinello sarà quando la bobina è piena e minima quando la bobina è vuota perché a bobina vuota a parità di tempo il mulinello recupera meno filo rispetto alla bobina piena da un rapporto di recupero costante 10 a 1 abbiamo visto che la velocità di recupero riferita a quel secondo è variabile in base a quanto la bobina è piena questa considerazione che cosa ci dice ci dice che per sfruttare al massimo il rapporto di recupero che ho scelto per quel determinato mulinello lo devo utilizzare con la bobina piena perché mi garantisce la maggior quantità di filo recuperato ed inoltre posso dire che in questo caso il mulinello con rapporto di recupero 10 a 1 riempito a metà recupera la stessa quantità di filo il mulinello con rapporto di recupero 7 a 1 quindi più basso ma con bobina piena e un 8 a 1 a bobina piena è addirittura più veloce un'altra conclusione a cui si può arrivare è che dopo un lancio molto lungo la velocità di recupero iniziale sarà quella minima perché ho svuotato la bobina quindi inizialmente recupero meno filo e questa velocità di recupero a parità di tempo di giro di manovella aumenterà man mano che recupero l'esca perché aumenterà la quantità di filo recuperata e da qui un suggerimento ad esempio nella pesca a crankbait con crankbait di profondità quindi con un lancio molto lungo il suggerimento è di iniziare il recupero per i primi 3-4 metri recuperando più velocemente in modo da contrastare la minore quantità di filo recuperata e in modo da far arrivare il crankbait alla profondità desiderata più velocemente proseguendo poi con il recupero abbiamo visto che la quantità di filo recuperata aumenta man mano che l'esca si avvicina alla canna quindi per mantenere l'esca più tempo alla sua profondità potrebbe essere un buon accorgimento nella seconda metà di recupero diminuire leggermente il tempo di rotazione della manovella in questo modo vado a contrastare la maggior quantità di filo recuperata mantenendo l'esca per più tempo a quella profondità magari possono essere un paio di metri al massimo ma possono fare la differenza questo ragionamento è servito a spiegare che il rapporto di recupero è associato ad una velocità di recupero tramite la quantità di filo recuperata per giro di manovella e se voglio sfruttare la velocità massima di recupero associata a quel determinato rapporto di recupero devo farlo utilizzandolo con la bobina piena ricordo che il dato riportato come dato tecnico per Molinelli è riferito alla bobina piena bene vi ringrazio per la visione e per aver seguito questi ragionamenti diciamo alternativi riguardo la velocità di recupero e il rapporto di recupero e spero di aver condiviso un punto di vista alternativo magari provate a ragionarci su e fatemi sapere cosa ne pensate rimanete su GoFishing alla prossima ciao